Innanzitutto buongiorno anche da parte mia, per me è davvero interessante e affascinante presentare questi concetti in un contesto che non è quello tipicamente imprenditoriale o tecnologico. Devo poi ringraziare oltre a Pandora per l'invito i miei due colleghi del panel perché hanno presentato in maniera veramente semplice ma con gli aspetti più importanti degli impatti che avrà la convergenza tra mondo dell'automazione, mondo dell'information technology e gli impatti anche sulla vita quotidiana. Quello che voglio provare io a fare oggi è farvi vedere che questa evoluzione, perché l'aspetto che vorrei sottolineare è quello che chiamiamo rivoluzione industriale 4.0 ma è semplicemente, passatemi il virgolettato sul semplicemente, un'evoluzione verso una convergenza di tecnologie già esistenti, quindi combinando quello che già abbiamo sui nostri tavoli riusciamo a fare cose diverse e magari meglio. Due parole relativamente al sottoscritto e alle aziende per cui lavoro, io sono Marino Crippa, mi occupo tra le altre cose di vendita, cosa noiosissima, di componentistica per l'automazione ma da due anni sto seguendo questo trend, da quando i colleghi tedeschi, la Germania ha istituzionalizzato dall'alto, dal governo tedesco questo movimento, fatemelo chiamare così, di evoluzione tecnologica, lavoro per una divisione di Bosch che fa componentistica ma Bosch è il più grosso produttore di componenti per l'auto, per la casa, il trappano, la lavatrice, l'80% della componentistica di molte auto mobili è prodotta da Bosch, quindi è il più grosso induuser, per cui è stato facile giocare in casa e cominciare a sperimentare sulle nostre linee che cosa vuol dire Industri 4.0. Che cosa vuol dire sperimentare sulle nostre linee, cosa vuol dire Industri 4.0? Industri 4.0 e quindi come il professore ha fatto vedere il quadrante in alto a sinistra, il mondo della fabbrica, significa poter far interagire sulla linea di produzione l'oggetto, la linea stessa e l'operatore che quell'oggetto lì deve assemblare, per esempio. Se poi estendiamo la linea di produzione all'intera catena del valore aziendale, quindi il fornitore e il cliente, riusciamo a ottimizzare la produzione così. Questo è un esempio. che vi voglio far vedere. Vi spiego il contesto, adesso interromperò il video per commentare. No, se lascia il video, è molto più bello il video della mia faccia, grazie. Questa è una linea di produzione. Su questa linea di produzione cosa facciamo? Montiamo delle valvole che vanno a finire su dei trattori, un esempio molto oggettivo. Cos'è successo? È successo che il costruttore di trattori, invece di produrre il trattore a lotti di X pezzi e metterlo a magazzino, ha deciso di produrre il trattore in funzione della singola caratteristica del coltivatore che doveva utilizzarlo. Per cui invece di acquistare da noi pacchetti di valvole acquistava quella valvola con quella versione per quel trattore. Per cui il concetto della customizzazione di massa, il concetto della personalizzazione del prodotto che in ambito consumer diventa il cellulare di quel colore preciso, in ambiente industriale diventa quella precisa versione di valvola per quel trattore. A questo punto cosa è successo? È successo che di quel prodotto ce n'erano 11 tipologie per 11 versioni, per cui capite voi qual'era la complessità da gestire su una singola linea. Per cui il bivio dei nostri ingegneri di produzione era raddoppio le linee per avere lo stesso lead time di produzione o cambio il concetto di linea. Ovviamente se è deciso di cambiare il concetto di linea facendo convergere le tecnologie informatiche con le tecnologie di produzione. Questa è la cosa noiosissima che si produce, un pezzo di ferro con dentro un cosino che si muove avanti e indietro. Questo è il primo pezzo, questa è una linea. In realtà non è una linea ma sono nove postazioni indipendenti. Per cui ogni postazione può essere riconfigurata in funzione della versione della valvola da produrre. Per cui in funzione della tipologia di valvola cambiano i componenti dell'assemblaggio. Mettetevi via questo concetto che è importante. La configurazione della stazione in un contesto normale è data dal piano di produzione. devo fare cinque valvole di quel tipo, il setup della linea è predeterminato dal piano di produzione, dallo scheduling di produzione del giorno, della settimana, del mese. Qui si è cambiato il paradigma. Il paradigma è che è il prodotto che deve essere assemblato che configura la stazione. Per cui il prodotto è stato dotato di un tag RFID, tecnologia disponibile a costo nullo. Sono andato a comprare un paio di scarpe da Decathlon, la cassa adesso è gestita attraverso il tag RFID. C'era il cassiere, non ha fatto passare, ne ha preso dal mio cestino la scarpa, la messa nella borsa, io l'ho guardato e dice ma fatto, sì c'è il tag RFID, ha registrato sulla cassa. Per cui costa meno dello scontrino il tag RFID. Tre anni fa costava più di un euro e mezzo credo a pezzo. Quindi dotato il prodotto di questo tag RFID il prodotto è diventato intelligente. Il prodotto può comunicare una serie di caratteristiche e tutte le caratteristiche che servono al mondo esterno, in questo caso alla linea. Queste sono tutte le caratteristiche che si cambiano in funzione del prodotto che arriva. altro punto, ho detto prima che è connettività, linea di produzione, nove stazioni connesse tra loro e connesse col prodotto, il prodotto che è connesso con la linea quindi configura le singole stazioni e adesso c'è l'operatore. L'operatore qui ha la possibilità di essere connesso alla linea. In che termini? Nel termine che vedete queste istruzioni di montaggio. Le istruzioni di montaggio sono adattabili alle competenze dell'operatore. Prendete per esempio un operatore tedesco che è 30 anni che monta questo tipo di valvole non ha bisogno di leggere il dettaglio del montaggio della valvole, lo fa a memoria. L'operatore appena assunto, magari non tedesco, che non ha magari una competenza linguistica tale, ha bisogno magari non di leggere ma di vedere un video. Per cui l'operatore stesso è collegato attraverso un dispositivo, un badge elettronico, una RFID anche quello, dove viene, questo è l'esempio, la stazione legge le caratteristiche dell'operatore e dal punto di vista delle informazioni da rendere disponibile, ma anche dell'ergonomia, il collegamento al welfare aziendale può essere facile, la stazione stessa si adatta in maniera tale da essere ergonomicamente efficiente al singolo operatore che in quel momento lì è alla postazione. Ultimo aspetto è la gestione del dato. La gestione del dato, per quello che ringraziamo i miei colleghi, avranno preparato perfettamente il terreno. La gestione del dato, se qualcuno di voi ha esperienza di linea di produzione, le teorie di gestione della qualità e della produzione prevedono di rappresentare l'andamento della produzione, in maniera tale che i singoli operatori abbiano modo di capire come sta andando e di porre in atto le misure necessarie per continuare a migliorare il processo in maniera continua. Il continuous improvement process di Toyotiana Memoria. Questo è un tema, il tema della raccolta dei dati di performance della linea di produzione è un tema anche di efficienza. Sono stato recentemente da uno dei nostri clienti che produce scalpelli e punte per trapani peraltro. E raccoglie ancora manualmente, semi manualmente in realtà, i dati di produzione, quanti pezzi è prodotto, la qualità dei pezzi, se i pezzi sono tutti fatti con un certo criterio, questi vengono raccolti in file di Excel, vengono elaborati e vengono appesi. All'inizio di ogni turno il responsabile di linea fa un piccolo incontro con gli addetti e la linea per mettere in pratica certe misure. In questo caso, noi la chiamiamo shop floor transparency, rendiamo trasparente il dato di produzione raccogliendo dalle macchine stesse le loro performance e rappresentandole in tempo reale su questi pannelli. Il tema della raccolta dei dati è quello che, a livello di fabbrica, ricordate sempre il quadrante in alto, è quello di accorciare i tempi decisionali. Se su una pianificazione di produzione di una settimana abbiamo una risoluzione di tempi di decisione di una settimana perché scopro magari a fine lotto il livello di qualità e quindi dopo una settimana o un giorno forse meglio metto in atto certe misure, in questo caso riesco in tempo reale a migliorare il processo e migliorare la qualità. E questo è un esempio, è un esempio di linea di come comunque gli obiettivi in azienda sono quelli della produttività, della qualità, della sostenibilità del business, rimangono sempre quelli di Ford, della tipo T che deve essere di qualsiasi colore purché nera, in realtà no, in realtà le facciamo di qualsiasi colore ma mantenendo quei parametri tipici dell'impresa che sono quelli che ho detto prima. Se mi rimangono altri cinque minuti, non ho tenuto conto del tempo, avrei anche l'altro video che fa vedere come una linea può essere connessa con altre linee di altri stabilimenti e il cloud aiuta a gestire i singoli stabilimenti. Se mi date un cenno di approvazione vi faccio vedere questo secondo progetto che è stato fatto in Bosch. In questo caso sono state collegate più di 5.000 macchine su 11 stabilimenti e messe in cloud. Adesso vedremo per farci cosa, una cosa un po' da capire. Questo è un po' anche il vantaggio che è a Bosch sui quattro quadranti, business to business, business to consumer, le auto che hanno una massa critica di produzione che ci permette di poter sperimentare o di poter investire su certa tecnologia con dei tempi di ritorno dell'investimento abbastanza ragionevoli. Questa è una linea che produce pezzi per l'ABS e li produce su 11 stabilimenti in tutto il mondo. Queste sono delle macchine automatiche, una macchina automatica è fatta di meccanica, è fatta di un controllo, è fatta di dati che tipicamente sono interni alla macchina. Uno degli aspetti importanti è quello che non ci siamo inventati delle macchine nuove, abbiamo semplicemente utilizzato i dati che già erano residenti nelle macchine, abbiamo semplicemente resi disponibili, elaborati e soprattutto interpretati. Il famoso concetto del big data e il concetto dello smart data, cioè la massa di dati resi intelligenti è perché si scelgono i dati da poi andare ad analizzare. Gli aspetti presi in questi stabilimenti sono stati quelli di performance di macchina, avete visto prima le macchine che funzionavano, di logistica, tutti i componenti sono taggati RFID come vi dicevo prima e quindi sono tracciabili su tutta la linea di produzione e la tracciabilità è resa trasparente, avete visto prima l'esempio di questa grossa lavagna interattiva, l'abbiamo replicato qui questo esempio. Cosa si è fatto? Allora si è reso disponibili, vi dicevo, i dati di queste 5.000 macchine sono state messe in cloud e poi sono stati letti, questo è il concetto base. Sono stati letti per fare tre principali cose. Una cosa, internet delle cose, si abusa poi del termine, un obiettivo è stato quello di fare della manutenzione predittiva. In termini di fermo macchina diventa cruciale soprattutto quando le produzioni sono di questo numero, di questo livello di volume, minimizzare i fermi macchina. Ma la novità è quella di aver creato un database di knowledge management condiviso su tutti gli 11 stabilimenti, per cui un guasto che succedeva nello stabilimento cinese era subito reso disponibile all'operatore di manutenzione dello stabilimento brasiliano. Reso disponibile sul tablet, per cui appena il guasto era identificato l'operatore brasiliano andava a colpo sicuro senza fare il classico backfixing della macchina. Quindi anche qui riduzione dei tempi di fermo macchina, aumento della qualità di produzione, cose da primo anno di ragioneria o di università di economia. Vado alla conclusione dicendo che diventa rilevante poi qui la formazione del personale. Avete visto come questo tipo di approccio non fa diminuire il numero di addetti ma ne cambia il profilo. Ne cambia il profilo perché gestire i dati significa introdurre concetti di cyber security, sicurezza informatica che prima nelle aziende non c'erano, prima bastava una recensione, due coccodrilli per proteggere il tornio, adesso serve una solida struttura informatica. Gli operatori devono essere istruiti a gestire la parte informatica e non semplicemente la macchina stessa. Per cui l'operatore in azienda ha bisogno di un percorso evolutivo. Ma diventa importante cominciare subito dalle scuole a insegnare questo tipo di fabbrica. La fabbrica nel giro dei prossimi 5-10 anni diventerà così, non è una cosa di dopodomani e i 5-10 anni è il tempo necessario per formare i nuovi e i futuri addetti nelle aziende secondo questo paradigma.